Abbiamo fatto tante proposte emendative importanti, alcune condivise anche con altri. Voglio sottolineare qui l'importanza di tre emendamenti che abbiamo fatto sul settore disabilità. Il primo è il riconoscimento finalmente della lingua dei segni, un traguardo che si aspettava da dieci anni. Non solo, abbiamo ottenuto la semplificazione e la velocizzazione dell'attribuzione delle risorse alla federazione Procechi. Abbiamo detto che la velocità e la semplificazione sono fondamentali, in questo settore siamo riusciti a dare il nostro apporto. E infine un altro provvedimento importante, un'altra misura importante che è l'istituzione di un fondo destinato ai genitori separati che abbiano avuto problemi a caso della pandemia, di perdita di lavoro, comunque di crollo del reddito. Ci sarà la possibilità di avere contributi fino a 800 euro. Quindi cose concrete che aiuteranno le persone in difficoltà subito.